E' bello a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, qui è MrBlack che vi parla, oggi siamo in un nuovo live bozzo, non solo con me ma anche con DomiUV22 che purtroppo non potete sentire per problemi di registrazione E eccolo qui, ve lo sto facendo vedere, è un mio amico, si chiama Domenico in real life ed oggi stiamo giocando insieme, una partitina in deathmatch su combine come state vedendo e andremo a utilizzare il, credo il KN oppure il CUDA, non lo so, poi vedo La lobby sembra buona, sembrano abbastanza nabboni con lì contro, c'è uno con la tag pene, che è eccezionale lui E utilizziamo un dato di calore perché l'ho appena sbloccato e devo finire le sfide, quindi andiamo a fare un attimo una partita buona E Domenico usa live, perché usi live? Ah lui deve fare le sfide, è giusto Dai, se si sbriga forse ce la facciamo Ecco qui, allora, credo di usare il K, sì, usiamo il KN Vai, lo uso anche Domenico, così siamo alla pari, io direi subito di pushare lo spawn, vieni con me Ah io devo fare ancora 4 kill da lontano, eccolo subito il primo che va giù Anche se, no, come? Grande Domenico, sei morto Veramente? C'è uno con la balestra Oddio, c'è un altro Andiamo, andiamo, andiamo Tutti allo spawn, pure quest'altro Vai, 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 andiamo, andiamo, attento Fesci Andiamo Do, eh, la balestra Tu Che cacchio ha appena preso la balestra lui Guarda, mi ha appena ucciso con la balestra E la Kimbo Oddio Guardalo, fa le triple Eh, quella, la Kimbo è potentissima Oh, ma che cacchio, però Cioè, io gli sparo in coccia Guardalo Ma è un pro Metto il kuda No, ha messo il cecco Vabbè Forsevo a fare il col cecco Ho sbagliato classe Ho messo il cecco Vabbè Andiamo di cecco Andiamo di fare una kill Lasciameli No Eccolo Lo vede No, ma non sto Appena stunnato Ora muoio Proprio male Addio Ok Andiamo di cuda Stiamo facendo un po' scagare Proprio male Ma malissimo Ci abbiamo andato di calore Oh, ma ha cambiato spawn E' appena cambiato spawn Prendi un altro Siamo in serie No Mi ha cecchilato Ma addio Vediamo un po' di fare qualche altro devasto Oh, ma questo è un pro Queste balestre Oddio Sì, perché non si sente Proprio di sua Muore Pippa Eccolo Dov'è? Eh dai, però Me li ha pittano Sì, tu me li hai appena pittano Ah, boh, sti cazzi Sì Sì, capita Guardalo Sta lo spawn No Ma questo è balestre Ha rotto Oddio E muori Muori Te ho stato andato di calore Devi morire Ho preso le balestre Oddio Che cacchi di spettacolo Però muori Ma come non muore Cioè L'avete visto tutti No, mo l'hanno visto tutti Muore Vai Doppia Ecco E poi mi uccide La mina a pressione Cioè Tu pensa quanto fanno schifo questi Il culo è bagatissimo Raga Dopo la pace È tipo L'arma La smg più forte Oddio Questa mina pressione Mi devono far sclerare Che palle Muore Che schifo Domenico si appitta Le balestre degli altri Muori Muore No Non muore Dai Stiamo allo spawn No Che schifo Amico Fai cagare Ma questo che sta a fare Lo spawn Tipo Sta arando il mondo Ho visto tutti i morti Oddio Questa è palestra Io lo segnalo Per Eh sì È appena caduto lui Muori Dai Eh solo lui Sta a fare il partitore Lui fa il partitone Io faccio cagare Però muori Lo sapevo La Oggi bestemmia Cioè No Beh bestemmiare No Però Quasi Non mi sembra giusto Però Questi ce le vogliono Proprio Bravo Bravo Sì ma Ah boh Se era veterano Ti avrei odiato Per tutta la vita No No Queste palestre Basta Eccolo Eccolo Sempre Al meglio Al meglio Luce alive Se muori Se muori Oddio Ah ragazzi Un'altra cosa Che volevo dire Arriviamo a 5 like Come nel video precedente Anzi il video precedente A 13 siamo arrivati No Oh E fa l'ultima 30 e 18 Oddio Che cazzo di pro Guarda A me non mi muoiono Mille colpi Gli sparo Cioè Ah sì È il mio Questo Vabbè ragazzi Almeno siamo tutti e tre Sul podio Quindi Eccezionale Io spero che Che questo video Vi sia piaciuto Come sempre Lasciate un bel mi piace Un commentino E soprattutto Iscrivetevi al canale Noi ci becchiamo In un prossimo video Balla ragazzi Ciao